In questa calda e bella ultima domenica di maggio io mi trovo a Pesaro e oggi sono qui perché arriverà un supereroe, Capitan Acciaio. E ovviamente come ogni supereroe anche Capitan Acciaio ha un grande superpotere. E il superpotere di Capitan Acciaio è quello di sensibilizzare i grandi ma soprattutto i piccini al valore della raccolta differenziata e del riciclo dell'acciaio. Ovviamente non sono qui soltanto per Capitan Acciaio ma sono qui anche perché Ricrea, Consorzio Nazionale per il riciclo degli imballaggi in acciaio, premierà proprio il comune di Pesaro per l'impegno nella raccolta differenziata dell'acciaio e per i suoi obiettivi raggiunti. Quello che è stato raggiunto è un traguardo importante nel recupero di questo materiale che poi può essere riciclato all'infinito. Per cui veramente un ringraziamento, l'attenzione dei cittadini, si può fare di più. Questo ovviamente come ogni volta non è mai un punto di arrivo ma è un punto di partenza. La sensibilizzazione, le campagne evidentemente che anche l'azienda sta portando avanti stanno dando i propri frutti. Nel centro storico siamo partiti con questa nuova modalità di raccolta con le isole ecologiche informatizzate. Quindi anche questo evidentemente ha aiutato in questo risultato che ricordiamolo è al di sopra della media regionale. Per cui oggi siamo qua per celebrare questo risultato che appunto è di tutti, non è solo ovviamente le Marche Multiservizi, anzi soprattutto la comunità, però dobbiamo fare di più. Quindi veramente avere questo approccio rispetto al rifiuto. Nulla è rifiuto ma tutto è risorsa come diciamo, quindi quando gettiamo le cose dobbiamo capire bene come farlo. Ciao pesaresi, il mio superpotere ce l'avete anche voi, è fare la raccolta differenziata, tutta, e degli imballaggi in acciaio. Imballaggi in acciaio che vanno conferiti qui a Pesaro insieme alla plastica, perché poi questo grande materiale che è l'acciaio può essere riciclato al 100% all'infinito attraverso dei passaggi in aziende che si occupano di separarlo dal multimateriale leggero, cioè la plastica, e avviarlo a riciclo per poi far sì che possa essere fuso in acciaieria e tornare nuovo acciaio. Che si può trasformare, come si può vedere nel nostro stand qui in Piazzale della Libertà a Pesaro, si può trasformare in nuovi oggetti come panchine, telai di biciclette, fontanelle, anche binari del treno, quindi ne gioviamo tutti. Noi oggi sensibilizziamo la cittadinanza fino al 29 maggio e andiamo a premiare la città e tutti quei fattori, tutte quelle aziende che partecipano insieme ai cittadini che hanno in primis il dovere di differenziare correttamente, andiamo a premiarli per i valori di raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio che sono arrivati a buoni risultati ma non molliamo, facciamo sempre di più.